Una proposta pesante come un macigno, il settore della pesca italiana potrebbe finire in ginocchio. Ancora più serie le conseguenze per la marineria dell'Adriatico. La Commissione europea per il 2021 vorrebbe ridurre ulteriormente del 15% le giornate di pesca. Anche da Termoli si alza il grido di rabbia. Nonostante quello che è successo quest'anno, che con la pandemia si è ridotto molto il fatturato dell'impresa di pesca, l'ultima novità è che la Comunità economica europea ci vuole imporre un'ulteriore riduzione delle giornate di pesca. Voi immaginate che una barca a strascico già ferma 30 giorni durante il periodo estivo. Poi nelle 10 settimane può pescare solo 3 giorni. Deve fermare 20 giorni durante l'anno e adesso ci impongono ulteriori giornate di fermo. E con 130-140 giorni l'anno come fa un'impresa ad andare avanti? Questa è una cosa assurda, che poi ci piove dall'alto e questo incide solo sull'Adriatico. E questo per noi è assurdo. Ci stiamo battendo in tutti i modi per cercare di far cambiare questa cosa, ma la vedo molto difficile. Quindi c'è una disparità rispetto al terreno? Certo, anche perché le tasse sono uguali, i contributi sono uguali. Quindi un'impresa deve riuscire a pagare i contributi mensilmente, però gli riducono le giornate di pesca. Poi vogliono che ci si pesca quando dicono loro. Quindi il sabato, la domenica, magari recuperando, neanche si può fare. Per noi tutto questo è assurdo e questo ci stiamo battendo in tutti i modi. Abbiamo chiesto anche al nostro Presidente della Regione di intervenire presso il Ministro Bellanova, però le notizie non sono belle. I pescatori termolesi, nonostante la riduzione delle giornate di lavoro, hanno assicurato il prodotto. Il virus ha creato non poche difficoltà anche durante queste feste natalizie, ma a termoli il pesce sulle tavole è stato garantito e la gente non ha rinunciato. Sembra che le notizie sono buone, quindi il pesce si sta vendendo, però secondo me bisogna cambiare proprio la cultura dell'acquirente, perché spesso ci si imbatte in pesce che viene da importazioni o pesce che comunque non può garantire, secondo noi, la reale freschezza.